Avviso di chiusura delle indagini per 120 tra agenti e funzionari della polizia penitenziaria e dirigenti dell'amministrazione campana per le violenze nel carcere di Santa Maria Capuavetere dopo le rivolte dell'aprile 2020. I reati contestati a vario titolo sono tortura pluriaggravata ai danni di numerosi detenuti, maltrattamenti, lesioni personali, abuso di autorità contro detenuti, perquisizioni personali arbitrarie, falso in atto pubblico, calunnia e frode, fino alla cooperazione nell'omicidio colposo ai danni di un detenuto di nazionalità algerina deceduto nella casa circondariale Francesco Uccella il 4 maggio dello scorso anno. La procura di Santa Maria Capuavetere in una nota ha ricordato che il numero delle persone offese è elevato, 177, tutte detenute presso il carcere sanmaritano all'epoca dei fatti, ferma restando l'indiscutibile presunzione di innocenza degli indagati fino a sentenza irrevocabile, si legge nel comunicato, l'esercizio delle facoltà difensive di presentare memorie e documenti, depositare documentazioni e di presentarsi per rilasciare dichiarazioni è stato disposto in tempi estremamente celeri. In totale sono 87 i capi di imputazione elevati. Lo scorso 28 giugno erano state seguite 52 misure cautelari personali nei confronti di indagati in servizio perso diversi uffici del dipartimento. Sono stati 52 infatti gli interrogatori davanti al giudice per le indagini preliminari e altri 32 detenuti sono stati riconosciuti come vittime di torture.